Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come si pota una rosa a grande fiore. Prima di tutto si prende la forbice e si va a eliminare tutte le rame secche, aprendo la rosa e allargando tutte le rame. L'ultima parte della potatura importantissima è seguire l'occhio esterno della rama giovane della rosa, che va potato in diagonale leggermente sopra, in modo che il prossimo anno la rama parte ed esce esternamente. Mi raccomando, alla fine dell'opattatura non rasarla proprio al suolo per creare problemi a questa povera pianta, ed è importantissimo fare un piccolo trattamento di rame dopo tutta l'opattatura e del concimo invernale. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!